No di Biden a Netanyahu sull'invio di armi offensive in caso di invasione di Raffa da parte dell'esercito israeliano. Intanto nella città della Striscia si registrano 4 morti e 16 feriti. Il Papa presiderà oggi pomeriggio nella Basilica Vaticana la cerimonia di lettura e di consegna della bolla che indice il Giubileo del 2025, Anno Santo all'insegna del tema Pellegrini di Speranza. Dall'avvio del processo di integrazione la storia europea vive forse la fase più critica, così il Presidente della Repubblica, Mattarella, è in occasione dell'Oriana Festa dell'Europa che si richiama alla dichiarazione di Schumann del 1950. Buongiorno e bentrovati a seguire il TG2000. In primo piano allora c'è il Medio Oriente. Il Presidente degli Stati Uniti Biden dice no all'invio di armi offensive ad Israele se il suo esercito invaderà Raffa. Resta drammatica la situazione a Gaza. Sentiamo Massimiliano Cocchi. Nei giorni scorsi il Pentagono aveva già bloccato una fornitura di munizioni e ieri sera, in un'intervista alla CNN, il Presidente Biden lo ha detto chiaramente. Se Netanyahu dara l'ordine di invadere Raffa, gli Stati Uniti non gli forniranno più armi. Non solo. Per la prima volta Biden ha ammesso anche che le munizioni fornite finora hanno contribuito ad uccidere civili a Gaza e questo, ha detto, è semplicemente sbagliato. Dunque il Presidente americano torna a far pressione su Israele perché fermi l'offensiva sulla città dove si sono rifugiati un milione e mezzo di sfollati e perché si trovi un accordo su tregua ed ostaggi. La sensazione è che gli Stati Uniti vogliano promuovere il piano già approvato da Massa. Per questo il capo della CIA, dopo aver incontrato Netanyahu a Tel Aviv, è tornato oggi in Egitto. Nel frattempo Gaza continua ad essere isolata. L'esercito israeliano ha preso il controllo del valico di Raffa, che resta chiuso. E la promessa di aprire, quello di Kerem Shalom, non è stata mantenuta. Ci sono 220 camion carichi di aiuti fermi in attesa di entrare, mentre Gaza, la situazione umanitaria disastrosa, ha denunciato la mezza luna rossa. Intanto la guerra non si ferma. Quattro persone sono state uccise e una decina ferite per un raid a ovest di Raffa. Elicotteri da combattimento hanno sparato missili verso il quartiere di Alzaedun, a sud di Gaza City. Poco distante, il quartiere di Al-Sabra è stato colpito durante la notte da un prolungato bombardamento. Fonti locali parlano anche di carri armati che stanno avanzando, in particolare attorno al cosiddetto corridoio di Nezarim. La strada costruita proprio dagli israeliani, che divide in due la striscia, nord e sud, per agevolarne il controllo potrebbe essere il primo passo verso un imponente intervento di terra. E in Ucraina un nuovo attacco è stato lanciato oggi dalle forze russe, nel giorno in cui Putin e la Russia celebrano l'anniversario della vittoria sul nazismo. Ci riferisce Marco Burini. Celebra la fine di una guerra mentre ne sta facendo un'altra. Promette di impedire lo scontro globale ma dispiega l'arsenale nucleare. Esalta la vittoria sul nazismo ma si comporta da dittatore. Per Putin la parata nella giornata della vittoria è l'ennesima occasione per una propaganda piena di risentimento e paura. Il bersaglio è sempre l'Occidente. Non permetteremo a nessuno di minacciarci, ringhi al boss del Cremlino, che chiama eroi i soldati che manda a morire a centinaia di migliaia in Ucraina, dove i missili russi continuano a colpire i civili. Stamane due morti e due feriti nel bombardamento su Nikopol, che ha centrato case, negozi, centri commerciali e un gasdotto. Negli ultimi mesi gli attacchi alle infrastrutture energetiche sono aumentati. Milioni di persone rischiano di restare senza elettricità per diverse ore al giorno. Kiev risponde colpendo la confinante regione russa di Belgorod. Una dozzina di feriti per l'attacco delle ultime ore. Guerra è soltanto guerra. A Bruxelles si sono messi d'accordo per destinare gli extra profitti dei beni russi congelati all'Ucraina, sotto forma di aiuti militari. Com'è lontano il sogno di Schumann, per il quale l'Europa doveva fare qualcosa di nuovo, creativo, per salvaguardare la pace mondiale. In Italia, ora a Roma, dove oggi ha preso il via la quarta edizione degli Stati Generali della Natalità. Ci dice tutto Augusto Cantelmi. Alla via gli Stati Generali della Natalità. Oggi la parola ai giovani, alle forze politiche. Un tema sentito che chiede risposte. A breve tempo il tour della natalità è un'opportunità per gli organizzatori senza precedenti per mobilitare e coinvolgere attivamente il territorio nella ricerca di soluzioni efficaci per affrontare la crisi democratica che affligge il nostro paese. Grande attesa per la giornata di domani con la presenza di Papa Francesco. Lavori iniziati questa mattina e non sono mancati momenti di tensione per una protesta in sala di un gruppo di collettivi studenteschi che hanno impedito alla ministra della famiglia Rocella di parlare e di esprimere liberamente il proprio pensiero. Si contesta la libertà di essere madri. La reazione della ministra è stata impedita, aggiunge, di parlare anche ad una mamma incinta e al presidente del forum delle famiglie Bordignon. I lavori poi sono ripresi senza problemi. Amici, voi avete visto? Erano poche persone che hanno fatto una contestazione. Noi abbiamo dato la parola, abbiamo cercato di coinvolgerli. Ho cercato di anticipare tutto perché ho visto che su Instagram avevano mandato dei messaggi e si stava un po' muovendo la cosa. Abbiamo cercato di contattarli, non hanno dato seguito, sono venuti, hanno fatto contestazione. È sempre brutto quando si impedisce a qualcuno di parlare anche perché noi abbiamo dato l'opportunità a loro di esprimere la loro opinione. E dispiace che un ministro della Repubblica non abbia potuto parlare per questo motivo. Ci dispiace che se ne sia andata, ma con grande maturità penso abbia fatto, abbia scelto. La cercheremo di coinvolgere in un'altra occasione a brevissimo. Veniamo all'inchiesta che ha sconvolto la politica ligure. Domani il presidente della regione Giovanni Totti sarà sentito dal GIP, il servizio di Antonella Mitola. L'inchiesta sulla corruzione in Liguria che ha portato all'arresto del presidente della regione Giovanni Totti si allarga da altri dieci indagati. Fra le nuove figure coinvolte è anche Paolo Piacenza, da settembre scorso commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Per lui l'ipotesi di accusa e abuso di ufficio. E oggi iniziano i primi interrogatori di garanzia. Al primo a comparire davanti al GIP Paola Fagioni e Paolo Signorini, amministratore delegato sospeso di IREN ed ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, accusato di corruzione. L'unico per il quale il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Domani invece è previsto l'interrogatorio di Giovanni Totti ai domiciliari che si dice sereno e determinato a chiarire i fatti. Sabato saranno interrogati il capo di gabinetto Matteo Cozzani su cui pende anche l'accusa di corruzione elettorale è aggravata dall'agevolazione mafiosa per aver favorito il clan decammarata di Riesi. E l'imprenditore Aldo Spinelli, nella sua villa ieri, la guardia di finanza ha trovato oltre 220 mila euro in contanti. L'inchiesta è in pieno svolgimento. Gli inquirenti stanno indagando anche su altri imprenditori che potrebbero aver finanziato con metodi corruttivi la campagna elettorale di Totti. Ci spostiamo a Palermo dove c'è un primo indagato per l'incidente mortale sul lavoro di Casteldaccia. La sentiamo Barbara Masulli. È il giorno dell'autopsia sui corpi dei cinque operai che hanno perso la vita mentre lavoravano alla rete fognaria di Casteldaccia. Sarà eseguita all'ufficio di medicina legale del Policlinico di Palermo. Nel registro degli indagati c'è un primo nome ed è quello del contitolare della Quadrifoglio Group di Partini con la ditta che stava effettuando in subappalto i lavori di manutenzione. Il geometra Nicolò Di Salvo, appena rientrato dagli Stati Uniti. Si tratta di un atto dovuto proprio in vista degli esami autoptici. In questo modo Di Salvo potrà nominare un suo consulente di fiducia così come hanno fatto i familiari delle vittime. Secondo la procura, la morte di Epifanio Alsazia con titolare come Di Salvo, D'Ignazio Giordano, Giuseppe Miraglia, Roberto Ranieri e Giuseppe Labarbera sarebbe stata causata dalla mancata predisposizione delle misure di sicurezza. Alla ditta viene contestato di non aver dotato i lavoratori di tutti i dispositivi necessari come le maschere di protezione e il misuratore di gas obbligatori durante interventi come quello di Casteldaccia. L'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo. Dalle indagini inoltre sta emergendo che gli operai non sarebbero dovuti scendere nella vasca interrata e quando l'hanno fatto, non avendo protezioni, sono stati travolti dal gas velenoso. Restano gravi intanto le condizioni di Giuseppe Viola, anche lui coinvolto nell'incidente e in coma farmacologico. Sono in corso le operazioni presso l'area di servizio Nure Sud dell'A21 per rimuovere i mezzi coinvolti nel grosso incidente avvenuto in mattinata che ha visto protagonista un tir carico di acido. Il bilancio è di un morto e sette intossicati. A Milano, nei pressi della stazione di Lambrato, un poliziotto è stato accoltellato in modo grave la notte scorsa a seguito di un intervento per fermare un uomo che stava lanciando pietre contro i treni. Il 37enne è stato stordito da una pistola elettrica ma ha comunque colpito alla schiena con un coltello il vice ispettore della polizia trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda. Il 9 maggio è il giorno in cui si fa memoria di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse e di Peppino Impastato, assassinato dalla mafia. Ci dice tutto Caterina Dall'Olio. La data riporta la memoria il 9 maggio 1978 quando a Roma, in via Caetani, tra l'allora sede della democrazia cristiana e del Partito Comunista fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, sequestrato nel marzo precedente, ucciso dai terroristi, delle Brigate Rosse. Quella di oggi è una data che ha segnato la memoria italiana. Lo stesso giorno, dello stesso anno, cadeva per mano mafiosa Peppino Impastato, giornalista, attivista politico. C'è chi ci vede, con un po' di humor nero, una certa ironia della sorte. L'epitaffio, inciso sulla tomba di Peppino, a Cinisi, la sua città natale, recita così, rivoluzionario e militante comunista, assassinato dalla mafia democristiana. Ed era ancora il 9 maggio, questa volta del 2021, quando veniva proclamata la beatificazione di Rosario Livatino, magistrato, freddato dai proiettili della mafia. Una data che è diventata uno spartiacque tra passato e futuro, ogni anno, l'Italia celebra il giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, delle stragi di tale matrice, ricorrenza istituita con la legge 4 maggio 2007, numero 56. La morte dell'esponente della DC e del giornalista siciliano, in qualche modo, ha unito il nord e il sud del nostro paese, anche se si tratta di due uomini con storie diverse, entrambi si sono distinti per la loro voglia di cambiamento e la ricerca del dialogo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricordato in un post sui suoi canali social le tre vittime unite dalla stessa data. Allarme bomba questa mattina all'Università La Sapienza di Roma, evacuata per precauzione la Facoltà di Sociologia di Via Salaria. Sul posto anche la Polizia con gli artificieri. Oggi pomeriggio alle 17.30 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco presiderà la consegna e la lettura della bolla di indizione del Giubileo 2025 e i secondi vespri della solennità dell'ascensione del Signore. Paolo Fucili. Un anno santo da vivere con fede intensa, speranza viva, carità operosa è l'auspicio del Papa per il 2025, anno del Giubileo ordinario. E per avere indicazioni su come celebrarlo, la Chiesa Universale riceverà stasera dalla Basilica di San Pietro la bolla firmata Francesco. Appuntamento alle 17 per la recita dei secondi vespri di ascensione con consegna e lettura della bolla papale di indizione del trentesimo Giubileo della storia. Straordinari inclusi, celebrati cioè non ad ogni quarto di secolo. Straordinario, ad esempio, è stato anche l'ultimo Giubileo della Misericordia fra 2015 e 2016 con Francesco. In attesa della bolla ci son già motto, pellegrini di speranza, inno che prende il titolo dal motto e logo ufficiale in evidenza anche nell'immancabile sito internet. Roma si prepara ad accogliere, secondo alcune stime, 32 milioni di pellegrini per varcare le porte sante delle basiliche romane maggiori, ma l'indulgenza si può lucrare anche in chiese designate in ogni diocesi dal vescovo del luogo, alle consuete condizioni di confessarsi, accostarsi all'Eucarestia e pregare secondo le intenzioni del Papa. Si è aperta oggi a Torino la 36esima edizione della Salone Internazionale del Libro, presenti all'inaugurazione il Ministro della Cultura San Giuliano e il Ministro dell'Istruzione Valditara. Addio a Giovanna Marini, voce del canto popolare, aveva 87 anni, collaborò con Pasolini, Calvino, Fo e De Gregori, compositrice, cantante e ricercatrice, ha dedicato la sua vita alla tradizione orale, fondando la Scuola di Musica Popolare di Testaccio a Roma negli anni 70. Ed oggi l'Europa ricorda l'avvio del processo di integrazione e l'impegno per la pace. Sentiamo Antonella Mazza Teruel. Dall'avvio del processo di integrazione vive forse la sua fase più critica alla storia europea, sostenerlo il Presidente della Repubblica in occasione dell'odierno anniversario dell'Unione nata con la dichiarazione, ricorda Sergio Mattarella, con la quale nel 1950 l'allora Ministro degli Esteri francese Robert Schumann proponeva la creazione di una comunità di stati i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio convinto, così disse, che la pace mondiale non potrebbe essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano. Oggi sono parole di drammatica attualità nota il Capo dello Stato che non cita la guerra in Ucraina ma afferma che il nostro avvicinato è segnato da crisi che sarebbe illusorio ritenere confinate a focolai localizzati. È una situazione imprevista che pone di fronte a scelte nuove. Mattarella non si riferisce a chi ha responsabilità politica ma ai cittadini europei chiamati a breve alle urne per eleggere il nuovo Parlamento un'opportunità di rendersi protagonisti per plasmare il governo di un'Europa unita, dinamica e in pace. Concludiamo qui il TG2000. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione come del resto tutta la nostra programmazione sull'app Play2000. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Ora diamo spazio alla rubrica culturale terza pagina. Buon pranzo e sereno proseguimento di giornata. Arrivederci. L'intento della fitta agenda di celebrazioni in cantiere è presto detto. Certamente quello di comunicare tutta questa ricchezza e fare in modo che sia un'occasione anzitutto di lodi al Signore naturalmente e un'occasione anche di studio, di cultura. L'abbazia di San Nilo a Grotta Ferrata fra il verde dei rinomati castelli romani festeggia proprio nel 2024 i suoi primi mille anni dalla fondazione per opera di San Nilo arrivato dalla Calabria bizantina fuggendo i Saraceni. Anche qui a pochi chilometri da Roma si può fare l'esperienza singolare di una immersione nella storia, nella spiritualità, nella liturgia dell'Oriente cristiano. I monaci infatti pur professandosi cattolici e obbedienti al Papa conservano e coltivano tuttora l'originaria identità orientale, ad esempio il greco dei canti e delle liturgie in chiesa innalzata sui ruderi di un'antica villa romana. Qui c'è anche la grotta dove la Vergine appunto chiese a San Nilo di fermarsi qui con i suoi seguaci e innalzare queste mura che oggi includono anche un museo, una biblioteca, un laboratorio di iconografia. In mille anni certo non sono mancati alti e bassi. Ma sostanzialmente la realtà del monastero di Grotta Ferrata come disse Leone XIII in una frase per noi rimasta memorabile, una gemma orientale incastonata nella tiara pontificia quello è rimasto sempre. I primi casi in Italia risalgono al 1982 per una malattia mai del tutto sconfitta. L'AIDS colpisce ancora pubblicato da Armando Curcio editore è il titolo del libro di Giuseppe Cerasari medico infettivologo che a lungo è stato docente di malattie infettive presso l'Università La Sapienza di Roma non un testo scientifico ma pagine volutamente divulgative per fare memoria dell'esperienza vissuta in prima persona e per continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica. Per molti l'AIDS non esiste e forse non hanno mai sentito parlare. Io con questo libro volevo riportarlo nell'attualità perché è la più grande epidemia che abbiamo mai avuto ha fatto 40 milioni di morti ci sono 39 milioni circa di persone con il virus o in terapia o che non sanno di averlo per cui rimane ancora una epidemia attualissima e di cui bisogna tener conto. Alla fine della lettura di queste pagine si esce più con paura rassicurati o con quale sensazione? No, alla fine quello che prevale è sempre la fiducia nella scienza e nell'uomo e secondo me anche la solidarietà tra gli uomini è quello che dobbiamo spingere e quello che mi rattrista è che in 40 anni e oggi appunto sono esattamente 40 anni non siamo riusciti ancora a fare un vaccino.